Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video dedicato a Fortnite stagione 5 giovedì 7 dicembre 2023 e quindi oggi dopo l'aggiornamento ci sarà finalmente la nuova modalità LEGO che dovrebbe pagare punti esperienza quindi si aggiungerà a tutte quelle modalità come salva al mondo, zero costruzioni o mappe creative che pagheranno punti esperienza che andranno a aumentare i livelli del nostro pass battaglia di questa stagione 5 scusate capitolo 5 stagione 1 quindi non vedo l'ora di che finisca l'aggiornamento e che ci sia la possibilità di provare questa nuova modalità detto ciò oggi mappa creativa codice 663201950503 1v1 build fight startiamola in modalità partita privata e andiamo a vedere tutti i passaggi che ci consentiranno poi di guadagnare punti esperienza per appunto aumentare i livelli di questo pass battaglia che è un po' più lento del solito a livellare il primo tasto lo trovate qui a sinistra della porta d'uscita il secondo invece lo troviamo esattamente sull'angolo opposto qui c'è farm room qua troviamo il secondo tasto e poi dobbiamo uscire nel 1v1 arena qui dove c'è il tasto verde sul lato sinistro quindi di qua dobbiamo fare una, due, tre basi e poi sparare al tasto che c'è là in fondo ok e poi fare ancora una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette basi e qui troviamo un altro tasto da cliccare quindi in totale sono dieci le basi da fare torniamo indietro verso il centro dell'arena e andiamo sul lato opposto sempre tenendo questa traiettoria quindi lato opposto e anche qui faremo dieci basi quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci e qui abbiamo un altro tasto per XP torniamo indietro torniamo al centro dell'arena e poi verso sinistra quindi ci voltiamo verso sinistra e lì c'è lo starting point qui facciamo cinque rampe stavo cadendo una, due, tre, quattro, cinque poi cinque basi una, due, tre, quattro, cinque qui troviamo un altro tastino da cliccare ragazzi in questa mappa ci saranno un sacco di tasti da, di bottoni da cliccare e un sacco di passaggi da fare però almeno non si aspettano i soliti dieci barra quindici minuti per poi iniziare a fare quei quattro, cinque passaggi quando ci sono tantissimi passaggi che pagano un pochino di punti esperienza per ogni tasto cliccato io però parlando mi sono dimenticato che dobbiamo cliccare il pulsante verde ho preso il 3 rosso ma poi devo recuperare la scopa per velocizzare gli spostamenti che si trova l'ho intervista prima non è nelle armi esotiche ma è nelle armi mitiche eccola qui raccogliamo la scopa della strega ritorniamo nell'arena e andiamo verso quella casetta verde ora le faremo passare un po' tutte perché ogni location avrà uno o più tasti da cliccare quindi entriamo in questa qua verde che poi è il negozio del golf club e qui dove c'è la t-shirt altro tasto da cliccare dobbiamo guadagnare qualche punto esperienza più e poi dietro al bancone sotto la cassa di sinistra abbiamo un altro bello tasto da cliccare poi usciamo dalla casa andiamo verso quella palafitta il legno e qui in basso se non ricordo male dove c'è questo cespuglio esatto abbiamo un altro bel tastino saliamo le scale della palafitta entriamo dentro e qui dove c'è la stufa legna qua in alto abbiamo un altro bel tasto da cliccare ma andiamo avanti usciamo dalla palafitta e andiamo verso quella casa con il cammino che fuma e qui dobbiamo prima entrare al piano terra qui e qua dove c'è questo mobile saliamo sopra e qua nell'angolino abbiamo un altro bel tasto per xp da pigiare poi usciamo e andiamo al piano superiore usando la scala esterna entrando dentro nella stanza e salendo le scale qui dove c'è la finestra abbiamo un altro bel pulsantino da cliccare usciamo mi sono un po' perso ok dobbiamo andare su questa montagna si là in alto quindi si questa di qua andiamo esatto qua dove c'è questo cespuglio d'erba altro tastino e siamo arrivati a 25 25k ora torre del corallo e qui sull'angolo abbiamo un bel tastino da cliccare lo clicchiamo poi scendiamo giù e qua in alto a sinistra eccolo qui altro tasto clicchiamo e altri punti esperienza siamo già siamo già siamo a 32k ora dobbiamo andare in questa casetta bianca quindi ci spostiamo con la nostra scopa della strega e qui dove c'è questo computer retro altro tasto poi usciamo giriamo intorno alla casa e dove ci sono i pell pallet e questo ormeggio altro tasto e siamo arrivati quasi a 40k una cosa del pescatore ora dobbiamo andare là in fondo quindi scopa nella stalla nella stalla abbiamo anche qui due tasti uno è sopra il tetto ma il primo è qua sopra esattamente qua sotto la finestra tasto poi scendiamo usciamo e saliamo sopra il tetto perché qua c'è un altro tasto per xp da cliccare eccolo qui quindi andiamo avanti dobbiamo salire là sopra salire ancora scopa dubito fortemente infatti quindi andiamo qua trampino trampino sul trampino su ancora e qua dove c'è questa statua dell'orso no non è un orso perché c'è la coda lunga la stessa cosa sia un lupo pantera tasto ora dobbiamo saltare sull'altra montagna e dove c'è la cassa c'è un altro bel pulsantino ultimi tre mi sembra due no tre uno è qui dove c'è la cassa clicchiamo l'altro è qua sotto nella casa di Babbo Natale il capanno dell'avvento che dovrebbe arrivare il 15 di dicembre con un sacco di regali quindi entriamo dentro qui dove c'è il fuoco a fianco all'albero di Natale tasto penultimo e l'ultimo dobbiamo salire le scale e andare dietro l'armadio di destra e avremo completato tutti i passaggi quindi fatemi sapere cosa ne pensate mi raccomando fatevi sapere quanti punti di esperienza avete fatto sono curioso di sapere le vostre raganne io vi ringrazio per aver visto il video noi ci vediamo nel pomeriggio con l'aggiornamento sulla modalità dei Lego quindi io vi ringrazio ci vediamo dopo vi auguro una buona giornata e un buon video a tutti mi raccomando iscrivetevi condividete il video e attivate la campanellina ciao ciao